buongiorno amici bentornati sul mio canale avete visto bene dal titolo sappiamo tutti che montale sono veramente tanti ci sono tante fragranze ma quello che non sapete che il successo di questa marca è data sicuramente da diversi fattori fortuna intelligenza della proprietà costo tipologia di fragranze non in ordine di importanza insomma sono tutti quello che possiamo pensare abbia fatto sì di creare una cosa così unica come montale tutti ormai lo conosciamo comunque tantissimi è diventato un marchio che dall'essere di nicchia comunque veramente utilizzato a tutte le età tutte le tipologie di famiglie olfattive o quasi perché sugli agrumati rimangono sempre un po senza quello che ho pensato di fare è di parlarvi dei montali di cui non si parla mai cioè di quelli che se volete un po riprendere le fila del discorso iniziale cioè di andare a vedere quelle fragranze che venivano alcune perché altre venivano messe anche non per forza di quell'epoca però di quando proprio è partita la marca così potete proprio entrare nel merito di queste tipologie olfattive che comunque non so perché un po sono state sorpassate ma comunque rimangono secondo me sempre dei cavalli di battaglia di questa marca così intelligente e interessante ma bando alle ciance andiamo subito a vedere di che cosa sto parlando come al solito mi sono trovato a dire oddio come gliele metto maschile femminile per età per famiglia olfattiva cioè cerco sempre di darvi una chiave di lettura perché sennò specialmente in montale se andiamo a vedere quante fragranze ci sono è veramente un caos sapete che sono il pioniere del maschile femminile non esiste sapete anche che sotto i miei video vi scrivo però che le distinzioni che faccio le faccio in modo arbitrario ma unicamente per darvi magari un'idea di quello che poteva essere l'idea iniziale di chi ha creato il profumo cosa che come abbiamo visto spesso e volentieri specialmente in questa marca tra l'altro vedi intense caffè oppure in altre marche come tom ford vedi black orchid così nascevano in un modo e poi venivano acquistati o sempre in quel modo e poi in un altro modo cioè prima dalle donne poi dagli uomini oppure comunque addirittura sposarsi completamente da femminile maschile e viceversa un altro esempio cartier declaration per dire che mi avete proprio voi stimolato su questa cosa ma vedete che in mano la mia solita bottiglietta immagino molto sporca e rovinata ecco qui infatti wild pear questa fragranza io la adoro cioè la adoro e la voglio proprio spruzzare qua davanti a voi la amo perché è una pera civettuola cioè è un'idea proprio di pera che ti rimane lì che secondo me quando la indossi proprio non passa inosservata perché comunque è geniale il fatto di avere delle note che conosci però calate e che riconosci facilmente però calate in ambito di profumo quindi in una costruzione che richiama un profumo perché nessuno si vuole mettere addosso una spremuta di pera o di arancia o quello che è e wild pear è una pera muschiata quindi l'idea a chi piacciono i profumi a base muschiata nel mondo commerciale vari narciso rodriguez muschiati fruttati ovviamente secondo me mondo di nicchia grisetti luben insomma trovate di tutti questi ovviamente sempre le mie recensioni prendetelo in considerazione wild pear cioè non mi fermate davanti di una pera no non lo fate perché veramente può essere un profumo intrigante da utilizzare persistenza come da profumo muschiato però anche profumo che si sente all'inizio come da profumo con sfaccettatura fruttata il secondo mi piace tanto ancora di più è un profumo che non si trova più in italia è uscito da listino a me dispiace tantissimo ed è mango manga mango manga è un profumo stranissimo è un mango all'inizio ti sa un po di quasi big bubble però poi si sposta completamente e diventa invece profumo che vira appunto più sul sul fiorito ha dentro delle notte di fiore d'arancio mannaggia qui non è scritto comunque si dovrebbe avere dentro il fiore d'arancio se ricordo bene e ma è particolarissimo poi anche qui un fiorito fruttato al mango quindi non ve l'ho detto prima siamo partiti con i muschiati adesso con i fioriti io l'ho sempre adorato sia per il nome ma più che altro per la fragranza che è proprio unica nel suo genere solo che si trova solamente secondo me online nel sito francese però quindi è ancora in catalogo generale però come fa spesso Montale giustamente anche perché se no veramente una molle di fragranza in tutte le nazioni importante va a togliere o più che altro a mettere in alcune nazioni poi togliere poi così andiamo avanti con i fioriti con una bottiglia bellissima secondo me di questo ve ne ho già parlato in qualche video perché poi io manco mi ricordo più di quali vi parlo ormai iniziano a essere tanti video tanti anni lo sapete che ci vediamo qua in camera e intense su iris mi piace è un iris che parte un po' attutito non è l'iris all'infusion di iris di prada che invece con il neroli all'inizio va boom a darvi questa idea così rinfrescante questo invece è un iris che vuole essere più polveroso ha dentro il mandarino ha dentro sandalo e muschio bianco quindi un iris muschiato un pochino legnoso con la nota talcatina che si sente ma non troppo perché sapete l'iris ve l'ho detto miliardi di volte è responsabile della nota proprio più borotalcata un po' scuretta e intense su iris mi piace secondo me l'insuccesso o comunque il fatto che la gente non lo consideri troppo questo profumo perché quando leggi intense intense mi correggete sempre ci rimani un attimino perché quando leggi intenso ti immagini una bomba orologeria invece questo non è così però come tutti i profumi un po' muschiati un po' legnosi rimangono tanto ovviamente la sonata dominante è quella dell'iris rimangono in modo più subdolo cioè rimangono quando annusate il profumo questo però era un altro profumo che ho sbruzzato prima vabbè bottiglietta rosa ovviamente molti di voi diranno roses mask appena si vede la bottiglietta rosa roses mask no ragazze belle esiste un mondo di fragranze con bottiglietta rosa e montale quella che ho scelto io è roses elixir roses elixir è una rosa con fiore d'arancio e tutte le volte è anche un accennino fruttatino di fragoline io tutte le volte che vedo che faccio sentire roses mask perché di solito succede sempre così ah c'è una mia amica che utilizza questo profumo che mi piace un sacco e ovviamente noi che sappiamo quali sono i profumi che vendono di più iniziamo ok intense caffè roses mask mi ricordo più oddio intense caffè roses mask dark purple insomma no scusate dark purple no vabbè ce ne sono tanti mi vado a confondere anche io oh cazzo però intense caffè roses mask ah ma certo tutte le vaniglie madonna scusate è sempre mattina vanilla sweet vanilla piuttosto che andate a vedere il mio video se volete sapere quali sono e che cosa succede che ovviamente non sapendo qual è quello preciso via allora sarà roses mask rose lixir crystal flower tutti con bottiglietta rosa ed è incredibile come tutte le volte che faccio sentire gli altri mentre poi si finisce sempre su roses mask devo dire ed è un peccato ed eccomi qua infatti con rose lixir in mano penso ma caspita che buono che è cioè perché mi dovrebbe scuotere la persona e dire no aspetta non roses mask subito ci puoi arrivare un attimo dopo ma puoi avere il tuo profumo un pochino più alternativo però all'interno sempre di questa tipologia di fragranza fiorita tendenzialmente muschiata anche se questa è un pochino più corposetta perché ha dentro anche un accenno di vaniglia roses elixir secondo me le dovete dare veramente una prova come anche questo è un profumo invece più contemporaneo non ricordo precisamente quando è uscito ma qualche anno fa eccolo lì sweet peony sweet peony o forse quest'anno niente oggi proprio non ci siamo sweet peony invece è un profumo a chi piace più la fiorito ambrato fruttato quindi profumi che comunque sono nell'area di hypnotic poison piuttosto che potrebbe essere anche non so di gritti macramé cioè ci sono varie varie fragranze insomma in quest'area che sono quella che appena la senti c'è un fiorito fruttato invece no è più corposa una base è un po' più cicciosa e questo profumo è un po' più elegante un po' più trionfale sweet peony uno pensa alla peonia quindi un fiore delicato quasi in odore così invece questo è proprio corazzato come profumo secondo me se cercate il montale che ha una buona persistenza che è tendenzialmente più floreale però anche con una dolcezza finale ecco sweet peony ma intrigantissimo che in effetti all'inizio veramente spopolava ecco poi a me piace tanto lo sapete la granata di montale di blue amber che ecco qua ci racconta un'ambra blu un'ambra scura un'ambra legnosa quindi un ambrato legnoso non è non è proprio così consueto di solito si trova ambrato speziato quindi idea alla opium per dire tutti i suoi derivati compreso l'opium più contemporaneo il black opium che è un invece ambrato spezzato ma con molto accenno fruttato quindi paradossalmente quello di prima il sweet peony per dire a chi ama black opium potrebbe piacere ma blue amber anche va tenuto in considerazione perché è un'ambra proprio più scura non so l'ambra 114 sueur de parfum la citiamo sempre è conosciutissima ed è già uno speziato un po' più rinfrescante piuttosto che ambra eccentrico di armani un altro mio cult è un'ambra e cannella questa invece è un'ambra legnosa quindi riconoscete la nota ambrata che veramente vi avvolge vi abbraccia vi fa sentire benissimo però in una chiave più importante più elegante più da profumo sensuale ma non sensuale di vaniglia questo è il punto cioè di solito invece l'ambra addirittura appunto i gourmand cioè vaniglia fava tonca così rientrano nella famiglia olfattiva degli ambrati e però come dire non a tutti piace il profumo dolce quindi se ti piace il profumo ambrato ma non dolce via di blue amber siamo al settimo settimo ho sbagliato sono andato agli ambrati c'era ancora un fiorito e questo powder flower è un fiorito che veramente ha un sacco di fan ne aveva secondo me sicuramente di più una decina di anni fa perché una decina di anni fa era molto più in voga il profumo alla tendenege quindi il profumo talcatino tendenege di lorenzo villoresi talcatino un successo importantissimo è tipo ambroxan con nota di gelsomino e invece questo è più una rosa gelsomino osmanto cedro e fava tonca però il concetto è proprio di quel profumo talcato questo secondo me è un po' più liquidino cioè ti dà l'idea di un po' più fresco l'altro è proprio l'altro veramente tutte le volte che lo vaporizzo un po' mi prende in gola però non è bello tossire proprio quando hai appena vaporizzato il profumo davanti alla persona perché sembra quasi come dire vabbè il profumo che ti sto dando fa tossire però a parte le questioni di educazione ci sono dei profumi specialmente quando poi parli tanto e sei in profumeria ti può capitare che ti venga da tossire poi adesso con covid immaginatevi se chi fa un colpo di tosse veramente si crea attorno a lui il vuoto e powder flower è però un profumo che vi darà soddisfazione perché ha questa nota quasi ecco è talcato ma richiama quasi l'odore delle bolle di sapone quindi quando lo sentite richiama quasi un'idea un po' alcolica e questo lo rende un attimino più portabile secondo me anche d'estate un po' più fresco perché tenden edge infatti tutti usano l'eau de toilette tendenzialmente o de parfum o parfum ho visto solo poche persone a rischiarsi e powder flower però vi darà soddisfazione anche per cambiare un po' perché veramente chi usa tenden edge difficilmente riesce a spostarsi come anche eccoci qua a un altro profumo che invece è più è ambrato è un ambrato gourmand ed è sweet oriental dream questo profumo è un profumo che sta diciamo risolvendo un problema a tante persone a tutte le povere orfane o i poveri orfani di lucum di cake com'escerie perché sweet oriental dream è proprio veramente molto simile ma vi darà questa idea proprio di profumo vanigliato più che altro ma una vaniglia molto secca che è difficile proprio riconoscerla la vaniglia è una vaniglia un pochino che vi sa quasi di qualcosa di più aromatico e sweet oriental dream poche parole cioè l'ho sentita un'ottima persistenza non è proprio la classica vaniglia appunto riconoscibilissima ha qualcosa di più e più che altro appunto è un profumo che insomma ha la sua identità per chi già magari utilizzava l'altro profumo detto questo vanilla ecstasy vanilla ecstasy mi è sempre piaciuto ora vanilla ecstasy secondo me è un nome geniale perché in teoria non contiene la vaniglia anche se dal sito loro inizialmente avevo trovato non avevo trovato la vaniglia però non capivo se fosse un diciamo una descrizione cioè a volte c'è chi vi fa l'elenco delle note olfattive e buono e a volte invece chi vi racconta una storiellina in cui ci butta dentro due o tre note ma ovviamente ce ne sono altre e vanilla ecstasy insomma tendenzialmente lo ricordo proprio fin dall'inizio non avevo trovato note di vaniglia anche qua dietro non è scritto però adesso riguardando sul sito si diciamo accenna qualcosa di vaniglia a parte questo pippone su vaniglia non vaniglia il concetto è che è un profumo dalle note smaccatamente fruttate di albicocca e frutti rossi ma con anche un'idea fiorita che vi porta in un mondo un po' ambrato orientale gourmand dato appunto dalla vaniglia cioè dall'idea che mette in scena di vaniglia scusate ho fatto tutto il discorso per niente mi piace questo profumo proprio perché esce appunto dal seminato un attimino della vaniglia è più leggero ve lo dico quindi voi vanigliofili e vanigliofile assolutamente non vi aspettate il profumo alla vaniglia bomba è un po' come il vanilla vibes per dire i julietta e segan che però ha un'altra idea cioè non è l'idea marina è proprio l'idea fruttata che lo rende più portabile e un pochino più immediato ultimo profumo ultimo profumo legnoso ci voleva eccolo qua dark wood allora l'wood diciamo che avete visto la mia dea triba black afghano m7 cioè l'wood dell'wood se ne parla dal 2006 da insomma quel periodo 2003 appunto m7 oud non oud cosa è meglio chi si è ispirato a chi se volete entrare in questo genepraio dove io non voglio entrare più anche se qualcuno di voi ogni tot mi dice ah ma certo che quello più quello assomiglia più a quello ha vinto quello no basta ne abbiamo già parlato trovate il video e che dire quella tipologia di oud è l'oud proprio era l'oud che ha creato il successo dell'oud poi che cosa succede come sempre nel mondo del profumo quindi anche storicamente le famiglie olfattive sono state proprio create in questo modo le sfaccettature dominanti sono state create in questo modo cioè felici associazioni di note olfattive che hanno avuto così successo da essere copiate ricopiate ricopiate reinventate e diciamo spaccato il capello in quattro sull'argomento dark wood vi riporta invece all'inizio cioè dark wood è proprio quell'oud un po' orientale che sa un po' di mastice che sa un po' proprio di resina di colla ha qualcosa di legnoso wood e sandalo in particolare adoro montare wood sandalo punto da questo punto di vista non sempre adoro questo specialmente i profumi più strutturati ma questo invece è così wood sandalo punto e è un profumo che è back to basic praticamente cioè rivoglio rivoglio l'oud di una volta voglio proprio il profumo all'oud che crea un'aura violenta intorno a me che dura un sacco che dà quasi fastidio sia a me sia agli altri voglio quello quindi dark wood riscopritelo perché vi farà piacere ecco qua il suono che da un po' non sentivo finito ragazzi che dirvi allora mi raccomando trovate sempre il mio video che ho già fatto sulle mie top di montare quindi al contrario quelli che sono i top preferiti quelli che vanno di più quelli con cui potete anche iniziare ma per voi già montalofili da un po' invece dovete riscoprire se non li avete già scoperti prima questi profumi e può essere una chiave proprio per ampliare l'orizzonte per non usare il solito Intense Café Rose Smask niente oggi Red Vetiver oggi non me ne vengono eh comunque no vabbè scrivetemeli sotto scrivetemi sotto i vostri preferiti che non usate cioè che secondo voi sono un po' più off sono un po' più alternativi o i vostri preferiti invece magari che non sono così off ma che vi piacciono veramente tanto ma sicuramente dovete spolliciare mettetevi veramente tutto il vostro amore in quel pollice come anche iscrivetevi al canale accendete la campanellina seguitemi sui social sono sbarcato anche su TikTok ho fatto un video ma sono felice mi sto divertendo cioè e pensavo un po' da boomer o da sì boomer sono ancora dentro pensavo veramente che non sarei riuscito a approcciare al mondo di TikTok invece no devo ammettere è molto divertente vedremo adesso che senso gli darò dai ciao alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti.